Le strade storiche e monumenti da salvare, il titolo del libro presentato nella cornice del circolo sannitico a Campomasso dall'autore Oreste Rutigliano, un libro che evidenzia come le strade carrozzabili sette ottocentesche, che spesso ricalcavano antiche strade romane, possono diventare veicolo di turismo. Ho scritto questo libro sotto un duplice impulso. Da un lato vedere questi pezzi di strada così delicati, così ben disegnati, così integrati con un paesaggio, quando il paesaggio intorno è ben conservato in tante volte, con queste opere d'arte che sono poi ancora quelle di epoca romana, l'arco, l'architrave, e che tuttora sono a disposizione di tutti, ma ignorate, modificate, calpestate e quindi eliminate giorno dopo giorno. Quindi ho chiesto con un grido salviamole. La seconda ragione è perché in luoghi come il Molise, in particolare, in Abruzzo, queste strade consentono di vedere da vicino a tutti, in automobile, lentamente, tutta la bellezza di un paesaggio che in Abruzzo, in Molise, si è conservato questa ampiezza di panorami. Si tratta di tracciati stradali che sovrappongono periodi storici e che si adattano all'evoluzione dei trasporti. Sono tracciati prima romani, poi medievali, abbandonati, riconosciuti, poi lentamente ricostruiti a partire dal Settecento, quando le carrozze chiedono delle carrozzabili. Le carrozzabili diventano poi carrozzabili per le auto, che sono carrozze semoventi e ancora per 50 anni, hanno le stesse dimensioni, rimarranno uguali fino alla fine degli anni 50. Sempre bellissime, sempre curate, sempre contornate da campagne intatte. Per quanto possibile cerchiamo di ritrovarle, ristaurarle e di rivivere quelle emozioni. La strada storica di cui parliamo è la nazionale sanitica. Da Sassinoro sul fondo valle del Tamora, alla stazione San Giuliano, e poi bellissima, fino a Vinchiaturo, a vedere il meraviglioso Matese in tutta la sua estensione e bellezza. Che cosa può chiedere di più il Molise? Ha già un itinerario su cui costruire, insieme alla vicina campagna, un itinerario storico, paesaggistico, da vendere sul mercato nazionale e internazionale.